Potrebbe essere stata punita perché voleva rifarsi una vita, lasciare il fidanzato di sempre, avere magari anche un bambino, ma il sogno di Sofia Melnik, 43 anni, interprete ucraina, gli è stato fatale. Gli indizi raccolti in queste settimane porterebbero dunque alla conclusione che la donna sia stata probabilmente uccisa dal compagno che ne aveva poi denunciato la scomparse e che successivamente si era tolto la vita. Un omicidio suicidio dunque architettato da Daniel Pascal Albanese starà agli inquirenti mettere la parola fine a quello che per molte settimane era apparso come un vero e proprio giallo. Il corpo della donna in avanzato stato di decomposizione con molte ferite provocate da animali selvatici è stato trovato il 24 dicembre lungo la scarpata di un tornante della strada Cadone, il percorso che collega Romano Dezzelino a Cimagrappa, a scoprirlo un gruppo di cacciatori attirati dall'abbaiare dei loro cani. Al Manese e la Melny che convivevano da molti anni ma le cose ultimamente non andavano bene tanto che la donna aveva cominciato un'altra relazione ma forse non se la sentiva di lasciare l'uomo che nel frattempo era anche rimasto senza lavoro. L'incontro con un medico trevigiano l'aveva forse convinta a lasciarlo, forse glielo aveva detto, il resto sono solo ipotesi e ricostruzioni a posteriori, restano due morti.